Museo Il Correggio Palazzo dei Principi, omaggio all'Emilia Romagna con cari maestri, omaggio a Serafino Valla, all'interno selezionato una straordinaria sesta, un'opera bellissima del 74, del grande maestro di Walter Lazzaro, l'artista e il maestro che ha ripensato e ha pensato in maniera assolutamente originale e definitiva in termini filosofici prima ancora che artistici il tema del silenzio. Abbiamo il piacere di essere qui con Adriano Corsi, il titolare dell'archivio Galleria Lazzaro by Corsi di Milano a cui cedo il microfono per parlare così, per raccontarci così brevemente un po' la storia o qualche situazione che riguarda questa bellissima opera del maestro Walter Lazzaro. Grazie Gianmarco, come poter dire di no al tuo invito di portare un'opera in questa bellissima mostra per ricordare Valla e per ricordare anche grandi maestri che oggi non sono più presenti, tra i quali Walter Lazzaro. Questa è un'opera particolare, lui l'aveva nel suo atelier di Via Brera quando insegnava all'Accademia negli anni 70 e l'ha sempre tenuta esposta perché era un'opera a cui teneva particolarmente ed era visitata da tantissime persone, curiosiva moltissimo, addirittura un taxi una volta portato all'eccesso entrò in galleria per arrivare fin davanti, spaccò il vetro per arrivare davanti, era una battuta naturalmente, ma questo per dire come a distanza di tanti alti dalla sua scomparsa avvenuta 34 anni fa ancora la gente ricorda quello spazio di Via Brera e questa sua barca esposta sempre in vetrina. Grazie Gianmarco.